È la giornata più lunga, quella che l'Aquila aspetta tutto l'anno, la giornata in cui si ricorda, si commemora e si spera. Tutta l'Italia si stringe intorno al capoluogo di regione messo in ginocchio esattamente dieci anni fa, nella notte tra il 5 e il 6 aprile del 2009, in un pugno di secondi. 309 persone persero la vita ingoiate dalle macelle del terremoto, 55 erano studenti universitari di cui la maggior parte fuori sede. Una città che ha saputo, con un immenso sforzo umano, istituzionale, politico, collettivo, rimettersi in piedi e dimostrare che quando tutti i settori di un paese comunicano e lavorano insieme, si può risorgere anche da una guerra. Perché sì, il terremoto è stato come un immenso bombardamento che ha colpito l'Aquila e decine di comuni, una tragedia alla quale poi ne sono seguite altre come Amatrice. Ci sarà anche il Premier Conte, questa notte alla fiaccolata commemorativa che partirà alle 22.30 da Via 25 Aprile per attraversare i luoghi più significativi della tragedia. Al suo fianco anche rappresentanti istituzionali e parlamentari, il capo della protezione civile, Angelo Borrelli. Ci saranno anche tutte le associazioni dei familiari delle vittime e delle catastrofi in qualche modo causate in Italia dalla mano dell'uomo. A mostrare sin da subito una grande solidarietà, verso gli Aquilani sono state anche le associazioni sindacali e imprenditoriali. Proprio questa mattina, all'auditorium del Parco del Castello, i sindacati CGL e CIS de Will, con i loro segretari generali insieme a Confindustria, hanno illustrato l'impegno e lo sforzo fatto in questi anni per i territori colpiti dal sisma. Risorse che andranno a finanziare o hanno già finanziato progetti di sviluppo e contro l'abbandono dei territori. A spiegarlo è l'ex segretaria della CGL, Susanna Camusso. Purtroppo sono dieci anni che inseguiamo il bisogno dell'Aquila di ripartire, il bisogno di tutto il cratere, di avere la giusta dimensione. In questi ultimi anni è un po' meglio rispetto a una lunga stagione di stasi, però questa esperienza ci ha insegnato, purtroppo anche l'esperienza del terremoto del 2016, che noi abbiamo un problema di difesa del territorio, quella che chiamiamo normalmente aree interne, in realtà è il bisogno di non spopolare, il bisogno di avere una prospettiva perché le ragazze e le ragazze non sentano il bisogno di scappare, la necessità di avere comunque un tessuto produttivo che permetta e quindi un tanto bisogno di socialità e di istruzione. C'è un grave ritardo nella ricostruzione pubblica. La ricostruzione non significa rifare quello che c'era prima, c'è bisogno di ripensare il territorio e il modello di sviluppo, ha commentato il segretario nazionale della CGL Maurizio Landini. Per Carmelo Barbagallo occorre invece inseguire anche un'altra fondamentale battaglia, quella contro il precariato nel lavoro, laddove si nascondono lo sfruttamento e il ricatto dei lavoratori.